Mi chiamo Elisa Medente e da sette anni sono designer in Ratti. Le porte della nostra azienda aprono nel 1945. Ratti è una delle migliori aziende italiane per i tessuti. Siamo orgogliosi della nostra lunga tradizione artistica. Abbiamo l'occasione, l'opportunità di lavorare con i miglior brand in tutto il mondo. Abbiamo un archivio con tantissimi campionari che possono essere utilizzati per le ricerche. Clienti da tutto il mondo vengono erratti perché sanno che avranno qualcosa di esclusivo e sarà solo per loro. La partnership con EvoConcept è assolutamente naturale. Abbiamo fin dall'inizio trovato un perfetto equilibrio. È un piacere creare qualcosa con un'azienda dove i valori e i principi sono uguali. La scelta di EvoConcept verso Ratti è stata per un'affinità naturale verso un'azienda sostenibile. Ratti in questi ultimi anni ha investito moltissimo nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie che possano tutelare l'ambiente. Dalla mia esperienza un tessuto di arredamento deve avere sia delle caratteristiche tecniche importanti che supportino la struttura del tessuto perché deve durare nel tempo, ma dall'altra parte il touch, la mano, deve essere assolutamente piacevole, abbinato sempre alla ricerca del bello. Soddisfare il cliente creando qualcosa di nuovo non ha prezzo. Non ci si trova, per caso, a fare un lavoro di questo tipo. Lo si cerca, lo si desidera. Non è lavoro, è una passione.